...a tornare in moce a Perugia, non come un giocatore qualsiasi, ma come capitano della squadra campione di Davide. Prima di tutto, ciao, buonasera a tutti. Ha sempre il piacere di fare per Perugia, dove ci vede molto bene, questa volta l'avversario. Spero che ci rivediamo in qualche settimana a questo punto. Come si gioca una partita così? Si gioca una partita con tutto il cuore, questo è un po' di scala più buona. Grazie Rema, in bocca al lupo, a te e alla sicurezza Modena per questa chiave.